Un piano di emergenza comune per prepararsi al peggio è quel che serve all'Europa. Ci stiamo lavorando, lo presenteremo entro metà luglio, annuncia oggi Ursula von der Leyen al Parlamento europeo, perché dobbiamo essere pronti, avverte, ad un blocco addirittura totale nelle forniture di gas dalla Russia. La presidente della Commissione europea parla all'emiciclo di Strasburgo. L'occasione è l'avvio del semestre di presidenza della UE della Repubblica Ceca. La resistenza ucraina, osserva la von der Leyen, ricorda la primavera di Praga del 68. La Russia, osserva ancora, ha già tagliato in parte o del tutto l'export di gas a 12 paesi europei. Ma bisogna ripartire dall'esperienza della pandemia. L'emergenza non si può affrontare con 27 diversi interventi a livello nazionale. Abbiamo comunque davanti mesi di duro lavoro, avverte la presidente, per le conseguenze del feroce, lo definisce, attacco della Russia all'Ucraina. E i nuovi scenari della sicurezza europea sono il migliore argomento per accelerare l'impiego di energie rinnovabili. Intanto però ecco le proteste di oggi fuori e dentro il Parlamento europeo, dopo il sì alla cosiddetta tassonomia verde, un piano di politica energetica che include anche gas nucleare, sia pure a strette condizioni fra gli investimenti sostenibili.